Pausa per ricaricare le pile ma anche di meditazione per le messinesi della serie D. Certo non sarà la panacea di tutti i mali, ma lo stop forzato di domenica cade, come si suol dire, a fagiolo. Già, perché il momento di Orlandina, Due Torri e Città di Messina, alla quarta di ritorno, è davvero particolare. Ma mentre l'undici di Piraino, a settembre, era partito sapendo di dover soffrire per raggiungere la salvezza, Orlandina e Città avevano ben altre idee. E chiariamo il concetto. Allo starter, anche in queste due piazze, si parlava di permanenza, ma più volte era stato usato il termine tranquilla. Ecco, la tranquillità, proprio quella che, ad esempio, a Capodorlando è venuta a mancare da più di un mese a questa parte, dopo che la squadra, con tre vittorie di fila, Vibonese, Ragusa e Montalto, a cavallo tra novembre e dicembre, aveva imboccato la strada play-off. Già, gli spareggi post-campionato. In caso Orlandina, dopo il potenziamento della Rosa, con diversi nuovi arrivi, tutti di qualità, erano diventati l'obiettivo dichiarato, ma qualcosa non ha funzionato, o meglio, si è inceppata. Nelle ultime cinque giornate, solo tre punti, frutto di altrettanti pari. Il resto, sconfitte. Quindi, in classifica, meglio guardarsi le spalle. La zona a rischio, cioè i play-out, sono a sette punti, non molto per una squadra in evidente crisi di identità. Quell'identità che, invece, il cittadino Messina dichiara di aver ritrovato proprio il ciccino Michale di Capodorlando, nel derby meritatamente vinto con l'Orlandina. Certo, la posizione della squadra di Panarello è più a rischio, quindi molto diversa da quella dei paladini. I 19 punti attuali significano play-out tutta la vita, ma in casa Messina l'ottimismo in questi giorni la fa da padrone. Ottimismo che è andato scemando, invece, nel due torri. La formazione di Piraino, a metà del girone di andata, aveva raggiunto un tranquillo centro classifica, ora è nuovamente piombata nella zona rossa. Una vittoria che manca dal lontano 3 novembre. Un silenzio assordante, come quello stampa imposto dalla società proprio la scorsa settimana. Un modo strano per spiegare l'attuale quintultimo posto.